Promossa dall'associazione Laurus, nel parco suburbano San Francesco si è svolta stamane la cerimonia per celebrare la giornata mondiale della terra. Una terra che sappiamo tutti soffre moltissimo, la temperatura è molto alta, c'è stato un paio di mesi fa un G8 a Parigi durante il quale i grandi della terra, almeno in apparenza si sono messi d'accordo per evitare che la temperatura salga ancora con danni catastrofici, inimmaginabili per il genere umano. Abbiamo con noi Valeria Trecase che cura il progetto, di che cosa si tratta? È un progetto che si occupa di laboratori chiamati naturalmente, dedicati al rispetto della natura attraverso la creatività, sensibilizzando i bambini perché crediamo che crescendo attraverso questa educazione si ha più responsabilità nei confronti di cosa ci sta attorno, del mondo, della natura e di noi stessi, quindi si cresce con dei valori e dei principi sani. Come si articola la giornata? La giornata è un'occasione della giornata mondiale della terra, abbiamo pensato di cogliere questa occasione per richiamare gli alcamesi ad apprezzare la natura di questo parco e appunto prende il nome da San Francesco che era un santo che laudava la natura e il rispetto, quindi aspettiamo tutti gli alcamesi qui in queste tre giornate che ci sono tantissime attività ludico-ricreative, oggi ci sarà Frappe Animazione che accoglierà i bambini con dei giochi, il centro diurno di Alcamo e di Castellammare che assieme agli anziani reciterà delle poesie della terra, Legambinte che reciterà delle poesie di San Francesco, e poi anche l'associazione Vivi il Bosco che sta facendo delle attività di arte del reciclo e Zero Wast nel pomeriggio terrà delle attività di compostaggio, tutto per sensibilizzare sempre il rispetto della terra e valorizzare questo bene inestimabile che abbiamo. Un'altra attività in cui molti appassionati dell'architettura, soprattutto biarchitettura, possono recarsi questo pomeriggio qua, che alle 16.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura nella sezione di Trapani, voluta da Salvatore Cusumano, che esporrà dei materiali della terra presso il parco. Quindi queste mostre si possono visitare fino a domenica? Sì, fino a domenica, come anche i lavori che realizzeranno oggi i bambini delle scuole, che grazie ai docenti sono venuti a trovare il parco, e noi siamo contenti di accoglierli. Ospitiamo anche tutti gli appassionati di arte paesaggistica, come qui potete vedere c'è il pittore Gian Battista di Libarti, che realizzeranno in estemporanea la contatto con la natura, proprio rilassandosi attraverso la loro passione, e possono liberamente venire a dedicare il loro tempo qui. Noi siamo ben lieti di ospitare chi ama la natura e l'arte.